ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato a voi ed eccoci qui con un'altra simpatica puntatella dedicata ai vostri video ai vostri orologi insomma diventate voi i protagonisti e ci fate divertire nel bene e nel male con la vostra collezione mostrandocela no perché è anche interessante si accaparrare orologi è interessante studiare l'orologeria e gli orologi ma è anche interessante condividere gli orologi e la passione quindi l'unico sistema per condividere una passione è comunicare con gli altri comunicare con gli altri io lo faccio tramite video tramite video e voi lo fate tramite video anche voi perché me li mandate io li pubblico quindi siamo tutti qua che comunichiamo tramite video poi chiaramente si può fare anche di persona che è la cosa più raccomandabile e questo avviene quando ci sono le manifestazioni che ce ne sono sempre di più spesso le manifestazioni dedicate agli orologi siano essi vintage moderni micro brand arco brand ruca brand tutti questi sempre c'è manifestazioni ce n'è quasi una ogni settimana il che potrebbe anche portare alla rovina del settore secondo me il troppo stroppia perché poi succede così che quando c'è un'inflazione di eventi manifestazioni di interesse o nel piccolo anche un'inflazione di canali youtube che ne nasce uno ogni giorno dedicati all'oroggeria dopo un certo punto implode tutto noi ci vanno a rimettere anche quelli che magari hanno iniziato per primi o magari stanno avendo un certo successo tra virgolette va bene detto questo il mostro l'orologio del giorno che è come sempre questo bellissimo longin admiral primi anni 70 con il calibro l 633 ossia letta 28 24 un calibro robusto affidabile che è giunto fino ai giorni nostri in tutte le sue declinazioni più disparate no sappiamo che adesso si chiamano eta c 0 7 e sono modificati nella frequenza e bla 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 vabbè ma questi sono altri discorsi adesso noi concentriamoci sui vostri video con il ditino inquisitore che andrà a colpire la barra spaziatrice ciao davide eccoci qui con un altro video un saluto a te e a tutti gli amici del canale e bepi questo lo conosco saluto anche dal dall'aiutante billy son bepi di torino che è sempre qui che aspetta il suo il suo premio per andare avanti perché sennò non non produce bello billy qui ci sono un po delle passioni varie vedi modellini di moto dei dvd di alcuni di miei film preferiti bravo qui una serie di cinturini bracciale perché quando prendo qualche pezzo nuovo e cinturini originali li metto sempre da parte mamma mia quanti c'è anche un kit per la riparazione delle dei graffi dalle casse con la pellicola che io metto sempre nei fondelli e nella clubs per non rovinare graffiare allora partiamo con questo citizen pro master full titanio tutto in titanio molto non è neanche poi così leggera però sicuramente più leggero del dell'acciaio poco visto questo gira verde su del fondello essi non so se si vede si vede si vede titanioso un diver abbastanza grande diciamo perché sarà più di 42 mm ecco qui è bravo 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 seguiamo con un seico monster col quadrante che dove vengono rappresentati dei pinguini i pinguini i pinguini non so se mettendo fuoco si vede meglio ma è lo stesso dai beppe lascia stare una bella cassa particolare simpatica penso del fondello anche questo è un diver certificato proseguiamo sempre con un seico samurai samurai è simpatico anche questo col quadrante blu che rappresenta le onde del mare mettiamo un po meglio fuoco e metti la fuoco e anche questa è una bella cassa particolare che rappresenta praticamente l'elmetto dei dei samurai è già spigoloso così a spiovente il suo bel fondello con l'onda di kanagawa bravo promosso ecco qua beppe cinturini naturalmente sono tutti aftermarket che li metto dopo bravo però questo tropic blu ci sta ci sta ci sta bene promosso vai beppe facci vedere proseguiamo ecco bisogna dare sempre l'incentivo qua ancora uno ecco fai che salio sopra adesso però scendi dammi la zampina bravo anche l'altra bravo poi proseguiamo con emilton expedition è bello questo qua preso dal buon giacomo eh sì che indosso sempre volentieri volentieri non particolare con questa ghiera bidirezionale ma mi piace molto sono i punti cardinali calibro h10 sul movimento vista eh beppe beppe dopodiché questo longin longin idraconquest idraconquest con questo quadrante blu degrade non è degradé è soleil è soleil beppe è soleil ecco qua devi imparare i termini è una cassa abbastanza importante però un bel pezzo è il diver contemporaneo di casa longin mettiamo fuoco con tutti i crismi del diver guarda che bel fondello lì fondello bello fondello ho chiuso così è bello c'è chi no in quell'altro ecco qua poi ti faccio vedere questo zrc bravo con la cassa full titanio full titanio 3.000 metri e testato fino a 5.000 metri pensate manco ci faccio la doccia bravo mi piaceva c'ha il vetro zaffero che è molto bombato infatti pur essendo in titanio comunque è abbastanza il peso si sente il peso si sente perché per farlo 3.000 metri le pareti della cassa saranno spesse quanto un appartamento e quindi è meglio farlo in titanio che così si alleggerisce un po' ma non significa che diventa leggero significa che pesa meno di quanto peserebbe in acciaio poi il vetro bombato così è fatto perché il vetro bombato riesce a distribuire meglio la pressione sulla superficie piuttosto che un vetro piatto che rischia di inclinare il vetro prima se stiamo parlando di 30 atmosfere 30 atmosfere vediamo se riesco a metterlo meglio fuoco eh sì bravo questo orologio ha diversi brevetti tra cui la corona di carica che ha questo sistema che se non è tutta abitata l'ansa non va su poi nel fondello adesso qui vediamo se riesco a farlo vedere vai praticamente il fondello non è avvitato ma c'è una ghiera che va a chiudere sul fondello quindi stringe poi il fondello alla guarnizione e alla cassa cassa di forma particolare con questa che fa questo questo disegno spigoloso no? con un angolo acuto e la ghiera che è bella spessa con il suo vetro tutto spesso qua 3000 metri deve essere tutto spesso quadrante blu degradè ecco forse ci siamo spettacolare qui c'è lì che vuole qualcosa non lo so vuoi questo orologio? questo non si mangia però ecco qua vai adesso penultimo ancora andiamo qua adesso sediti però vai giù giù seduto 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 bravo dai ferro lì e aspetta eh bene penultimo facciamo vedere questo stupendo Quervo i Sobrinos Hemingway Hemingway questo un quadrante spettacolare di questo colore tabacco bello il datario così eh queste anse a agno con la sua targhetta numerata vediamo qui eccola qua il suo bel fondello coinciso un marlin qui c'era una foto di Hemingway che aveva pescato questi tre poveri marlin questi pesci dell'oceano eh questo questo quadrante è spettacolare anche di un po' più lo cuace su ecco qua in ultimo ti faccio vedere un altro diver è facile vedere che è un Tudor Pelagos bravo Tudor che è il top 500 metri valvola adeglio full titanio anche questo qui qui c'è la sua valvolina leggera ma non troppo so che a te il titanio non ti fa impazzire invece a me piace molto perché non riesco a mettere bene il fuoco no no si vede si vede vai tranquillo Beppe su che indosso con piacere con piacere bene un caro saluto a tutti saluto un saluto anche da da Billy ciao Billy mettiamo un fuoco il mio aiutante che è sempre qui a darmi la mano ciao love ciao love ciao Beppe 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 lo conosco è un amico ci siamo incontrati anche ultimamente siamo andati ci siamo incontrati là al mercatino orologico argonzola no c'era anche lui il mio amico Beppe è con Billy è con Billy sempre dietro beh gli orologi amico mio però non me li ricordo già più e quindi devo dare perché insomma anche te come esposizione sei un po' lentino è bel Citizen Seiko Samurai Seiko Monster l'Expedition della Hamilton Longinidro Conquest ZRC tanta roba ancora quel sovrino e Pelagos boh ti do un 8 per questi orologi qua tutti i orologi interessanti io non mi ricordo perché dovete sapere che l'amico Beppe è uno che spende in orologi spende poi lui va arriva anche quando si va alle fiere tuff tuff tira fuori il soldino e compra gli orologi e infatti la sua collezione l'avete vista solamente a vedere non sono questi sono anche altri solamente a vedere i cinturini lì decapitati che erano lì sul tavolo ti lascia pensare a quanti orologi ha da parte no brah e poi ha gusti più disparati viaggia da visto Quervo Sovrino ZRC Hamilton Longines endoccoio coio a lui gli garbano gli orologi bravo bravo Beppe mi è piaciuto il video salutami Billy che è un simpatico amico ha quattro zampe che fa invece di averci la scimetta c'è Billy praticamente Billy che devi dargli la nocciolina e lui ti fa comprare gli orologi ti permette lui di comprare gli orologi è diverso è diverso dalla scimma bravo Beppe mandami un altro video quando c'è altri orologi non è che ogni volta che ne compri uno mi mandi il video mi raccomando ciao Davide ciao quarto video l'ultimo video ti ho fatto vedere degli orologi complicati oggi vorrei farti vedere questo orologio non solo per avere il tuo parere come amante della Longines ma anche perché ho un paio di domande da farti ecco fatto e poi una proposta allora questo è un orologio di forma di 27x41mm circa ma che grosso ho fatto i compiti prima di comperarlo una volta tanto bravo e ho visto che ha un movimento 10.26 e il numero di produzione anche riferendomi al tuo sito gli dà una data di nascita di circa il 1934 dopodiché ho verificato bene anche la cassa ha la sua bella testa di ginevra ha la sua punzonatura del 750 carati oro ha il punzon de metro il numero 105 che sono Lefield Jules Blum di Le Chadefond è tutto bene tanto che mi piace tantissimo e me lo sono comperato quando sono arrivato a casa guardandolo bene è noto che con un certo disappunto non c'ha scritto Swiss Made sul quadrante poi verifico bene e neanche sul movimento c'è scritto Swiss Made la cosa mi infastidisce parecchio comincio a ragionare a vedere a verificare su internet leggo 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 cerco 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 finché a un certo punto per puro caso trovo la foto della Longine nel sito della Longine la foto di riferimento il campione per insegnare tutorial dove andare a vedere i numeri di serie dei movimenti che caso vuole proprio un movimento 10.26 identico al mio con il numero di serie eccetera e senza la scritta Swiss Made a quel punto mi tranquillizzo cerco di comunque di capire non mi sembra che la Longine abbia mai prodotto dei movimenti all'estero rimango col dubbio e ti faccio la domanda come mai ho visto ci sono moltissimi movimenti della Longine e anche orologi dove sul quadrante non è segnato Swiss Made io non sono riuscito a trovare nulla in proposito non lo so non è che sono un espertone perché mi metto lì che mi piacciono i Longine che mi metto a studiarli non è che sono un espertone però ad esempio c'è stato un periodo nel quale non c'era neppure quasi bisogno di identificarsi come Swiss Made o per far riconoscere certe cose faccio un esempio la corona di carica dei Longine ha iniziato a riportare il logo Longine solamente dopo una certa data anni 50 53 54 giù di lì prima erano lisce le corone solo dopo hanno pensato a mettere il logo voi anche magari perché sono cambiate le tecniche di realizzazione di poter di decorazione hanno potuto farlo più facilmente non lo so lo stesso modo lo Swiss Made non è sempre detto che ci debba essere specie se un orologio è così datato non vorrei che poi coincidesse anche col fatto che in quelli venduti all'estero ci doveva essere in quelli venduti in Svizzera magari neppure butto gli ipotesi perché non ho mai studiato a fondo sta cosa qua però secondo me è normale che sul quadrante possa mancare la scritta Swiss Made come poi nel tempo come poi nel tempo non dico Longini ma altre case hanno modificato questa scritta in solo Swiss oppure Swiss con meno 25 del trizio ok secondo me non è così diciamo decisivo il fatto che ci sia Swiss Made sul modello del 35 come dici te dal numero di serie numero di serie che poi può essere anche avvalorato dal fatto che ho visto al volo sul martello c'è il numero del del cassaio di colui che ha realizzato la cassa che è stato in attività dal 34 al 74 quindi il 35 rientra in quel periodo lì di costruzione delle casse va bene non lo so ma io non mi preoccuperei più di tanto continua a fare ricerche a studiare che prima o poi qualcosa trovi l'altra domanda che volevo farti un parere io gli orologi li compro per indossarli anche questo sicuramente l'ho comprato per indossarlo bravo è però veramente molto molto rovinato mi viene il dubbio di farlo lucidare e restaurare e questo è una domanda su il tuo parere personale su cosa faresti tu su cosa faresti tu io no io no è talmente troppo è quasi un orologio cioè un oggetto d'epoca un orologio d'epoca non è più vintage è d'epoca e non lo non lo toccherei non lo farei cioè perde perde la sua bellezza cioè ripeto se un orologio più recente più recente è per assurdo è più a è consentito a parere mio fargli fare una lucidatura un restauro mi compro il longin del 2014 boh restauro longin del 1989 ci sta il longin del 1975 anche no del 42 anche no del 34 minchia no hai capito cioè si va talmente indietro che è un orologio che va conservato e preservato per quello che è no ultima cosa per esempio anche grossi dubbi sulla originalità di questo quadrante io ho guardato dappertutto non sono riuscito a trovarne uno identico mi piace tantissimo sono estremamente felice ho dei dubbi e non so come togliermeli e come si fa ragazzi da ultimo ti farei una proposta che potrebbe essere interessante cioè di aggiungere una nuova rubrica oltre a quella già dove i follower ti mandano le loro collezioni una rubrica di un solo orologio presentami un solo orologio dove i follower orrendo termine che magari riusciremmo un giorno inventarne uno migliore amici del canale ti mandano un video di un solo orologio che lo spiegano lo raccontano bene eccetera eccetera di una durata massima di tre minuti forse avremo tante cose da imparare dai vari follower che studiano i loro orologi e vedremo forse degli orologi più interessanti grazie di tutto Davide per la tua preparazione pazienza simpatia tanti tanti auguri a tutti e tanti unboxing per tutti tanti unboxing per tutti io sinceramente continuavo a guardare quel quadrante lì non ti so dire se è originale o meno non te lo so dire non vedo indizi nel senso positivo da dire sicuramente è così o negativo no l'hanno ristampato certo che tra le varie probabilità statisticamente parlando un oggetto del 1935 che arrivi ai giorni nostri in un certo modo o che durante il suo percorso abbia cambiato aspetto le probabilità ci sono però l'unica cosa che io farei se fosse mio è quello che stai facendo anche te per cui non hai bisogno di me non è che io ho la scienza infusa nel cervelletto andrei a cercare a studiare vedo che hai anche guardato sui vari cataloghi ma anch'io l'ho fatto nel senso che quando vado a vedere trovo un orologio simpatico un orologio simpatico vado a cercare sui cataloghi ma il problema ecco questo qua l'ho messo qua quello degli anni 30 che ho preso anch'io con il calibro 13.34 che il quadrante l'ha ristampato ho cercato ho cercato quale potesse essere l'aspetto del quadrante di quell'orologio lì e non ci sono riuscito perché più indietro si va nel tempo è più difficile trovare pubblicità d'epoca o cataloghi dell'epoca dagli anni 30 stiamo parlando dagli anni 60 70, 50 si trovano ritagli di giornale cose varie gli anni 30 già è più difficile è già più difficile quindi se poi trovi qualcosa è limitato quindi ti manca trovi la punta dell'iceberg e il resto dell'iceberg non sai come era fatto quindi è anche difficile risalire come era fatto e quindi a quel punto lì dico mettiti la mia un pace continua a cercare ma anche se così non fosse la cassa il calibro lo sono se il quadrante è ristampato se fosse anche stato ristampato nel 1952 perché ormai è cavolo è sempre una ristampa del 1952 prendila così prendila così però continua a cercare di informarti anche il bello è anche questo e poi il problema lì qual è il discorso della rubrica dei tre minuti ma no non ha senso annunciare la rubrica da tre minuti che per cioè se viene viene come hai fatto te se viene se uno mi manda un video di tre minuti col suo orologio all'interno lì e ce lo metto non è che devo fare la conferenza stampa e annunciare di fare sta cosa qua viene fatelo fatelo siete ben accetti ciao davide ciao a tutti gli amici del canale oggi sono in compagnia del mio Seiko e Sky X più che mai adatta all'occasione che ti voglio far vedere faccelo vedere ti mando questo video in formato cartolina dalle vacanze anche se in realtà sono nella mia città 5 minuti da casa a Bisa c'è la mostra del maestro Kusai ed è l'occasione per andare a vedere la famosa onda di Kanagawa che riportiamo su fondelli dei nostri orologi vi ringrazio ciao a tutti ciao a tutti è un formato cartolina in anticipo ma ci ha mandato però per pubblicizzare giustamente leggevo lì ho letto nel cartelone fino al 25 febbraio 2025 quindi c'è sta mostra qua a Pisa sul maestro Okusai Okusai che è poi quello che ha dipinto l'onda di Kanagawa che abbiamo visto anche nel fondello dell'amico Beppe all'inizio siamo tutti contenti è finito prossimo video ciao Davide sono Mattia Mattia dopo anni che ti seguo mi sono deciso di mandarti un estratto della mia collezione estratto mi piaccerei con un unico Quarzon Aqualand Ci sta ci sta è bello anzi l'unico Quarzon in collezione direi che insomma fa abbastanza la pena ecco un bello iconico passiamo con una piccola rassegna di russi abbiamo Vostok Scuba Dio Scuba Dio colombino che fa il suo cinturino bellissimo guarda come è lucido originale andiamo avanti con un'anfibia di nuova generazione è bello la cassa Similton è molto carino sembra che è imponente come orologio bello però i russi sono sempre bellini poi passiamo un racchetta un 24 ore c'è anche Sinner e anche ore del mondo simpatico 24 ore non si legge adesso passiamo a due Perseo il primo questo è un commemorativo di una battaglia di mezzo giugno battaglia di mezzo giugno non ha da dire insomma un orologio nuovo qui Perseo in quelli di fascia bassa come questo monta dei calibri comunque giapponesi sicuro mentre invece questo è un Perseo di fine anni 70 che ho trovato un os veramente tenuto mamma mia che bello questo monta ancora insomma calibro Perseo Perseo molto carino ora passiamo ai Seiko Seiko 5 Sport Seiko 5 Sport mi ha colpito molto il verde di questo orologio mi è piaciuto un sacco verde petrolio come il Camasu praticamente Seiko 5 Sport il GMT anche di questo direi che sono rimasto colpito dal dial e questo orologio qua mi piace molto ho notato una cosa ho sentito anche degli amici del canale che l'hanno fatto notare ma nessuno ti ha detto quello che ti sto per dire io io ho pensato una cosa siccome la la ghiera l'inserto ha questa parte bicolore no? è soltanto visibile in certe condizioni di luce io ho pensato che magari stupidamente che la parte più chiara fossero le ore giornaliere e la parte più scura le ore notturne prova a dimmi cosa ne pensi ma è così ma è così in tutti gli orologi gli GMT sono divisi così dal basso all'alto perché una parte è il giorno l'altra è la notte quella sopra è la notte ci sono i numeri 22 24 le due di notte quindi la parte più scura è la parte è così dappertutto è così ma sempre fatti così non capisco andiamo avanti sempre con Seiko Seiko Tartle benedizione Manterei bello orologino dal dial insomma indiscutibilmente bello bello mi piace quello quadrato lavorato così bravo ora passiamo al Seiko Samurai è tutti seco sei un seco è un bello orologino questo mi piace un sacco da indossare sembra enorme ma poi al polso calza che è un pennello veramente bello però che quadrante così sei un Seikone Seiko Presage è un Seikone dalle linee retro anche questo mi piace particolarmente molto bello l'insertoghiera un colore una punta di rosso molto carina indicata ultimo Seiko in collezione questo era praticamente una limited che poi così tanto limited non era insomma però mi piaceva sempre dalle linee molto vintage promosso anche questo andiamo ora a qualche vintage vero e proprio un rumor classico orologino del nonno dal dial molto particolare che fa degli effetti è curvo interessanti Longin 30L questa cassa nazionale purtroppo la corona non è la sua cosa vuol dire cassa nazionale cosa vuol dire cassa nazionale cassa nazionale è in oro non può essere in acciaio la cassa nazionale viene fatta sui modelli con la cassa in oro perché c'erano le tasse di importazione sui preziosi quindi l'oro l'oroggio in oro veniva considerato prezioso occorreva metterci pagare i dazzi e il prezzo veniva troppo alto al consumatore fuori mercato quindi la realizzavano in Italia la cassa d'oro ma la cassa d'acciaio realizzata in Italia non è cassa nazionale vuol dire che è una crocchion se nel fondello non c'è scritto Longin e te la fai passare per dici è una cassa nazionale vuol chiamare cassa nazionale ma se è una cassa di un altro orologio quindi è un re incassato è una crocchion fatemi capire questa cosa qua non esiste la cassa nazionale in acciaio ed è però un modello oversize praticamente perché è un 38 mm per l'epoca erano tantissime l'hanno recassato dai passiamo adesso a un Tissot questo l'ho praticamente trovato in condizioni NOS è un Tissot degli anni 70 onestamente non ti so dire l'anno preciso comunque degli anni 70 ed è incapsulato è una doratura praticamente non è una semplice stavo guardando io stavo guardando la cassa è satinata lo vedete che c'è la spazzolatura longitudinale lungo la parte la superficie no superiore è anche bella ampia la superficie perché il quadrante rimane all'interno ci fa vedere anche sui fianchi un pezzo di cassa tanto così è tutta spazzolata e non puoi spazzolare la placatura la placatura è lucida apposta viene applicata qua c'è anche un bello strato di incamiciatura per averci fatto questa lavorazione qua bello molto bello probabilmente però la corona invece è placata dorata perché la vedo differente di colore la placatura è proprio incapsulato molto bello è tenuto bene boh bello bello continuiamo adesso con un classicissimo Hamilton mechanical orologio davvero versatile molto bello questa sabbiatura grigia così tanta roba un altro Hamilton in questo caso un crono Hamilton Linwood un po' troppo spesso e sono spessi sono spessi ragazzi sono spessi andiamo ora con un altro vintage anni 70 uno Zodiac Zodiac molto particolare se l'ho già visto sul canale forse non con questa cassa con un'altra cassa comunque l'orologio è tutto originale anche il bracciale tutto l'unica cosa l'ho trovato con quella riga qua in alto ma che ci frega continuiamo con un crono Eberhard Champion questo va dove l'hai preso crono dalle dimensioni direi quasi perfette se non forse un pochino troppo spesso però per il resto a livello di diametro è veramente perfetto Rado Golden Horse questo lo hai avuto anche tu non in questa colorazione nero ce l'avevo l'orologio dal dial spettacolare adesso con queste condizioni di luce forse non si vede benissimo ma comunque lo conosci un sub particolarmente pesante acqua marina ai 600 metri sotto Doxa 600 spesso per forza colorazione Tiffany Tiffany acqua marina celeste Tiffany 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 gli ultimi due anche questi trovati in condizioni praticamente NOS Omega Deville un cioccolatino guarda che bello sto qua mamma mia il calibro del 684 che è un'orologio del 1972 72 così nuovo e come ultimo il calibro automatico più sottile che Omega abbia mai fatto Constellation con calibro 712 Constellation è un 34 mm ed è del 1968 68 tutto originale bracciale perfetto mamma mia come è tenuto bene anche questo qua sono in condizioni veramente stupende che belli che ce l'hai ti ringrazio Davide se pubblicherai questo video e un saluto anche a tutti gli amici del canale porco Gideo questi ultimi due Omega qua del 68 e del 72 sembrano usciti dalla fabbrica ieri mamma mia che belli e poi non l'avrò mai visti questi due ultimi due Omega qua vintage non l'avrò mai visti vabbè che le referenze ne avranno fatte tante come dicevo l'altro giorno riguardo dei modelli delle case che con lo stesso nome di modello cambiano l'aspetto ora l'ultimo era il constellation per dirvi come siamo abituati a vederlo con il constellation quello con i numeri ce l'ho avuto anch'io con i numeri romani sulla lunetta bracciale integrato qua ti hanno fatto vedere tutto un altro modello e quello rettangolare di forma con quei begli scivoli satinati era un Deville e il Deville siamo abituati a vederlo rotondo con le sfere a bastone il massimo dell'eleganza e lì l'hanno fatto rettangolare con lo stesso nome con la stessa famiglia andavano su fogge completamente differenti io questa cosa qua devo dire la verità mi piace da un certo punto di vista però la provo poco la provo poco perché si perde la caratteristica di quel di un modello cambia nome cioè cambia nome a un certo punto il constellation me lo fai con i numeri romani sulla luneta cambia la foggia perché deve essere negli anni 70 un pochino più così negli anni 80 un pochino più barocca come vuoi te però sempre quella ci deve essere come come stanno facendo quel Seamaster Diver 300 ecco quello lì è l'unico che a parte Seamaster che rompe le scatole che si chiamano tutti Seamaster però Diver 300 perlomeno è nato nel 93 e dal 93 ad oggi ha una certa continuità stilistica non è che te l'hanno fatto uno quadrato o uno c'ha una certa continuità stilistica il Deville l'hanno fatto in mille modi anche l'acquaterra ha fatto quelli più recenti sono andati abbastanza dritti poi gli altri un purpurino vabbè lasciamo perdere dai i tuoi rogi sono veramente tutti molto belli la collezione interessante io ti do un bel lotto perché erano tutti 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 veramente per un certo momento sei stato hai fatto hai fatto passare tutta una serie di secco di secchissimi di seccambi e ho detto ma questo qua c'ha solo secco invece no c'è una bella varietà di marchi che insomma copre un po' tutti gli stili anche cronografi libera dal cronografo belli tutti belli 8 promosso amico mio promosso poi rado golden horse quel quadrante blu che tende al viola quel è il tiello non fare l'errore che ho fatto io di venderlo che tiello prossimo video ciao davide sono Giovanni dalla provincia di Venezia ciao Giovanni in passato ti ho mandato un paio di video oggi sono a mostrarti l'aggiornamento della mia collezione bravo partiamo allora con questo Cartier Santos è l'edizione per i 100 anni della Maison questo è un orologio che è appartenuto a mio nonno datomi in eredità è piuttosto massiccio è inutile nasconderlo però c'è una cosa che appena l'ho visto mi sembra i numeri romani che sono tutti molto appiccicati del termine tecnico mi sembra molto affollato ma è normale anche nel mio è così non me lo ricordo non me lo ricordo se nel mio sono più piccoli più distaccati perché così è veramente come gli Shanghai fai così le butti Shanghai eccoli lì poi ti ha fatto il quadrante lo riesco a indossare comunque con un discreto piacere discreto piacere non l'avevo ancora sentito bravo discreto piacere dove sei? il secondo orologio che ti mostro è questo Gégé Lecoutre è un reverso two face come puoi vedere è quello dei fine anni 90 inizio anni 2000 e questo orologio è appartenuto a mio padre poi lui ha smesso di utilizzare orologi meccanici e quindi l'ho preso sotto la mia ala protettrice bravo come puoi vedere i dettagli di questo orologio sul quadrante sono veramente fantastici veramente fatti bene ed è un orologio molto piacevole da portare discretamente piacevole scompare qua si spegne tutto c'è qualcosa che non va potete tagliarli questi pezzi qua allora terzo orologio di forma anche questo è un Frank Müller Casablanca questa è la misura intermedia la cassa 6850 e come puoi vedere è un orologio molto semplice un classico solo tempo che però diciamo contiene già quelli che sono gli stillemi principali della Maison Svizzera eh certo via altro orologio è questo Daytona 116-520 regalatomi in tempi non sospetti per la laurea e orologio che apprezzo moltissimo per le sue dimensioni il suo spessore relativamente contenuto e comunque godibilissimo forse non per tutti i giorni però sempre piacevole da portare eh certo ti porto adesso in Giappone con questo gran Seiko questo è il SBGV 231 è un orologio che rappresenta un po' quello che è l'entry level della casa giapponese ma che fa capire fin da subito la qualità e anche la maniacalità del dettaglio che gli orologiai e le maestranze giapponesi pongono in questi oggetti è un orologio molto bello da vedere il calibro è rifinito magari non al massimo grado ma comunque con un'ottima qualità delle finiture stesse ci piace tanto il prossimo orologio è piuttosto difficile da da vedere qui in Italia è un credor prima volta che lo vediamo sul canale essenzialmente è una sottomarca per così dire di Seiko sottomarca ma di di livello piuttosto alto è certo e questo orologio in particolare è un braccialato come puoi vedere molto sottile è una cassa che fa circa 6 mm di spessore con un calibro manuale da addirittura meno di 2 mm di spessore e volevo appunto farlo vedere qua anche sul canale perché si tratta di un calibro veramente veramente ben rifinito con tutti i crismi particolare e fatto da Seiko nemmeno a dirlo ed esclusivo per credor ci piace tanto un orologio che diciamo da usare per tutti i giorni è sicuramente un'ottima opzione ritorniamo poi in Svizzera con questo Ademar Piqué è un calendario perpetuo questo orologio ha la particolarità di essere e di essere tuttora di essere stato ma di essere tuttora il calendario perpetuo con movimento a rotore centrale più sottile al mondo parliamo di una cassa da 7 mm circa è un orologio molto bello è un 36 mm portabilissimo ovviamente e rappresenta per Ademar Piqué un po' la fuoriuscita dalla famosa crisi del quarzo degli anni 70-80 ultimo orologio poi smetto è questo Daniel Roth Daniel Roth è un orologio indipendente forse uno dei primi a essere diciamo essersi messo al di fuori delle grandi mesone orologere e questo esemplare risale ai primi anni 90 e come puoi vedere Davide questo orologio è veramente una rapsodia di 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 non c'è un millimetro quadrato di questo quadrante che non sia stato lavorato rifinito e comunque attenzionato dalle maestranze di Daniel Roth stessa orologio molto elegante la forma della cassa direi che è più che tipica del del brand e anche questo insomma sicuramente dà grande grande soddisfazione e beh certo che sì ho finito con la presentazione degli orologi ti ringrazio per l'attenzione continua così e love 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 grazie mille grazie mille per questo bellissimo video perché abbiamo visto degli orologi che solitamente non vediamo sul canale ragazzi anche dei bei pezzi calendario completo lì di Audemars Piguet e poi solitamente quale è il problema che più gli orologi sono sono complicati no pretenziosi e magari sono anche brutti a vedersi invece in questo caso qua erano anche belli da indossare come quel calendario completo lì piccolino leggibile bene complimenti per gli orologi che nove ti ho dato il voto nove ti do un nove perché era finalmente una collezione di orologi ricca ma non nel senso solamente economico è poco ricca di contenuti e di significati cioè al di là dei soliti marchi marchioni marchietti che poi un po' tutti ci cadiamo anch'io in primis e non è che io mi tiro fuori dal fatto di questo mainstream no Tudor Rolex Longines nomi altisonanti no poi dopo ti trovi questi orologi anche come Daniel Roth che è un orologiaio indipendente insomma tanta roba complimenti bravo un bel nove non sono tanti i nove che ho dato è sul canale te prendetelo e portatelo a casa ora ragazzi basta perché devo andare a vedere i gattini su instagram mi stanno aspettando devo andare e io quindi vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love Grazie a tutti